Ciao e benvenuto in Crescita Personale con Luca Sadurni, il podcast che ti aiuta a migliorare te stesso e la tua vita grazie alle migliori idee e dei più grandi libri su felicità, successo, gestione del tempo, educazione finanziaria e crescita personale a 360 gradi. Nell'episodio di oggi parliamo di intelligenza emotiva. Lo faremo attraverso l'analisi del libro più famoso ed influente dello psicologo americano Daniel Goldman, libro il cui titolo è proprio Intelligenza emotiva che cos'è e perché può renderci felici. Si tratta di un libro pubblicato nel 1995, diventato rapidamente un best seller internazionale e che nel tempo si è imposto come il testo di riferimento per capire cos'è l'intelligenza emotiva e perché è molto importante per il nostro successo e la nostra felicità. Allora, la tesi di fondo del libro di Goldman è che l'intelligenza emotiva riveste un ruolo fondamentale nella nostra vita, tanto da essere persino più importante del quoziente di intelligenza. Per essere più precisi, secondo Goldman, il quoziente intellettivo contribuisce solo per il 20% al successo personale e professionale. Il restante 80% è determinato dalla cosiddetta intelligenza emotiva, che include fattori quali la capacità di motivare se stessi e di perseguire un obiettivo nonostante delle difficoltà, controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, comprendere e gestire i propri stati d'animo, essere empatici con gli altri ed ancora essere ottimisti. E quanto fu rilevato alla fine di uno studio che coinvolse 95 studenti di Harvard. Una volta raggiunta la mezza età, gli ex studenti più brillanti ed intelligenti non avevano avuto un particolare successo nella vita e, aspetto più importante, non si sentivano più felici rispetto agli ex studenti più mediocri. Altri studi supportano questa tesi e testimoniano che le persone dotate di grande intelligenza emotiva si trovano avvantaggiate e hanno maggiori probabilità di essere felici ed efficaci nella vita. La buona notizia è che ciascuno di noi può sviluppare la propria intelligenza emotiva nel corso della propria vita. Il primo passo per sviluppare la propria intelligenza emotiva è lavorare sulla autoconsapevolezza, che può essere considerata la chiave di volta dell'intelligenza emotiva. Citando Goldman, si tratta della consapevolezza dei propri sentimenti nel momento stesso in cui si presentano. Se vogliamo controllare sentimenti e stati d'animo dobbiamo innanzitutto comprenderli, questo è abbastanza logico. La capacità di controllare le proprie emozioni è una virtù elogiata sin dall'antichità. Il controllo dei propri stati d'animo è ad esempio uno dei cardini dello stoicismo, una corrente filosofica di cui ho già parlato nell'episodio dedicato alle meditazioni di Marco Aurelio. Certo, a tutti noi capita di provare delle emozioni negative come la collera, la rabbia, l'ansia e la tristezza. La ricetta della felicità non è certo sopprimere queste emozioni negative perché anche i momenti negativi della vita sono necessari per farci apprezzare quelli più positivi. Tuttavia deve esserci un equilibrio tra emozioni negative e positive, ed è proprio questo equilibrio determinare il senso di benessere psicologico. Se impariamo a riconoscere i sentimenti che proviamo, possiamo adottare la strategia più adeguata per reagire alle nostre emozioni. Per citare un esempio, Goldman spiega che non è vero che quando siamo arrabbiati la cosa migliore da fare è dare libero sfogo alla nostra rabbia. Una sfuriata non ci farà per forza sentire meglio. L'autore spiega, con delle prove neurologiche a supporto, che è addirittura il contrario. La sfuriata rischia di alimentare ancora di più la rabbia che proviamo. Per questo l'autore ci propone una serie di strategie alternative come ad esempio allontanarsi dagli altri per aspettare che l'ondata di adrenalina si estingua o magari rimettere in discussione i pensieri che alimentano la nostra rabbia. Questo è un buon consiglio da tenere a mente la prossima volta che ti arrabbi. Andiamo oltre per passare a quella che è, a mio parere, una delle idee più illuminanti del libro, ossia la correlazione tra intelligenza emotiva e prestazioni di alto livello. Per Goldman, infatti, l'intelligenza emotiva è il vero segreto di coloro che raggiungono l'eccellenza nel proprio campo. Spieghiamoci meglio. Un famoso studio dello psicologo svedese Anders Eriksson aveva mostrato l'esistenza di un nesso tra il numero di ore di pratica ed i risultati raggiunti. Anders Eriksson aveva infatti indicato che i migliori musicisti ed atleti, ad esempio, erano quelli che avevano studiato e praticato per il maggior numero di ore. Questa ricerca aveva dato origine alla famosa regola delle 10.000 ore, resa popolare da Malcolm Gladwell. Nel suo best-seller fuori classe, Gladwell aveva un po' semplificato le conclusioni di Anders Eriksson, affermando che per diventare un esperto nel proprio campo era necessario praticare per almeno 10.000 ore. Di sicuro ne parlerò ancora in futuro, ma ciò che ci interessa maggiormente in questo episodio è l'interpretazione fornita da Goldman, a proposito appunto dello studio di Anders Eriksson. Il ragionamento di Goldman è il seguente. Le persone che ottengono risultati di massimo livello sono quelle che sin da bambini riescono a sopportare anni di duro addestramento ed allenamento. Un violinista che volesse raggiungere l'eccellenza all'età di 20 anni dovrebbe infatti dedicare alla pratica del suo strumento molte ore al giorno, tutti i giorni, sin da bambino. E solo coloro che possiedono le doti della perseveranza e della capacità di conservare l'entusiasmo nonostante i fallimenti possono riuscirci. E queste due doti sono due tratti costitutivi dell'intelligenza emotiva. Troviamo un'idea simile nel libro Grinta di Angela Duckworth che ci spiega che il segreto per raggiungere risultati di alto livello non è tanto il talento ma quella miscela di passione e persistenza che la Duckworth definisce appunto Grinta. Goldman ci parla poi di un'altra capacità fondamentale legata all'intelligenza emotiva, quella di resistere agli impulsi e rimandare la gratificazione. Dopo aver citato altri esempi, Goldman conclude che l'intelligenza emotiva risulta fondamentale per sviluppare altre abilità e per conseguire realizzazione personale e successo in vari ambiti. Un altro tratto costitutivo dell'intelligenza emotiva è l'empatia, ossia la capacità di comprendere i sentimenti degli altri. Si tratta di una capacità estremamente importante per avere buone relazioni con altre persone, tanto che uno studio realizzato da ricercatori Nowiki e Duke su un campione di studenti americani aveva indicato che la capacità di leggere i sentimenti espressi in modo non verbale permette non solo di essere più amati tra i compagni di scuola, ma anche di ottenere risultati scolastici migliori, indipendentemente dal quoziente intellettivo. Essere empatici ci permette infatti di metterci nei panni dell'altro per capirne i sentimenti, i disagi e le sofferenze. Ognuno di noi infatti apprezza il sentimento di essere capito da un'altra persona ed è per questo che l'empatia risulta fondamentale per stabilire migliori relazioni umane. A questo riguardo l'intelligenza emotiva può risultare fondamentale nei rapporti uomo-donna perché molti problemi di coppia sono causati proprio dalle differenze tra il mondo emozionale degli uomini e delle donne. Un altro ambito in cui l'intelligenza emotiva si rivela fondamentale è il lavoro. Essa ci permette di interagire in modo efficace con gli altri, in particolare nella gestione dei feedback. Da un lato il manager o il leader deve imparare a dare dei feedback costruttivi che motivano chi li riceve a fare meglio e non il contrario. Dall'altro chi riceve dei riscontri, quindi un feedback, deve essere capace di non mettersi sulla difensiva, non considerarlo un attacco personale ma al contrario un'opportunità per cooperare e crescere. In entrambi i casi la chiave di tutto è possedere una buona dose di intelligenza emotiva. L'ultimo aspetto di cui volevo parlare oggi è il ruolo fondamentale che i genitori ed insegnanti rivestono per aiutare i bambini a sviluppare l'intelligenza emotiva. Il nostro temperamento è certo un tratto innato che ci accompagna fin dalla nascita. Ben presto i genitori si rendono conto se un bambino è calmo e placido o irritabile e difficile. La buona notizia che emerge dagli studi è che il temperamento non è un destino. Ciò che può davvero fare la differenza sono le risposte emotive che i bambini imparano durante la crescita e l'esempio fornito dagli adulti e in particolare dai genitori. Le interazioni con i genitori sono fondamentali in questo senso perché plasmano e modificano il temperamento dei bambini. Goldman ci parla in questo senso di alfabetizzazione emozionale, un processo assolutamente necessario per evitare dei problemi di varia natura legati alla sfera emotiva quali ansia, depressione, chiusura in sé stessi, difficoltà di attenzione ed aggressività. Molti insegnanti conoscono bene questi problemi, dietro i quali si nasconde spesso un grande malessere emotivo causato soprattutto da lacune di natura emozionale. Proprio per questo motivo Goldman invita gli adulti ed in particolare i genitori ad impegnarsi per aumentare l'intelligenza emozionale dei propri figli, insegnando loro a capire i propri sentimenti, gestire i propri stadi d'animo ed acquisire le competenze emotive fondamentali. Per concludere, il miglioramento della nostra intelligenza emotiva è importante in primo luogo per la nostra felicità perché ci permette di combattere le emozioni negative e raggiungere risultati di rilievo nella vita. L'intelligenza emotiva riveste poi un ruolo fondamentale nei rapporti di coppia, al lavoro ed in generale nelle interazioni con gli altri. Tutti noi possiamo migliorare la nostra intelligenza emotiva e dovremmo accompagnare i bambini in questa direzione. Ora, ci sarebbero ancora tante cose da dire su intelligenza emotiva di Goldman, ma questo è già l'episodio più lungo che io abbia mai registrato. Avrai già intuito la mia opinione, si tratta davvero di un libro eccezionale, è molto utile, interessante, chiaro, ricco di esempi e a tratti davvero illuminante. Personalmente mi ha fatto capire tante cose sui mie stati d'animo e di quelli delle persone intorno a me. Mi è stato sicuramente molto utile in ambito professionale e poi mi ha aperto gli occhi riguardo al fatto che, in quanto genitore, avevo ed ho il dovere di coltivare l'intelligenza emotiva dei miei due figli. Come sempre, puoi approfondire queste idee consultando i link in descrizione ed in particolare il mio articolo su intelligenza emotiva è la mia sintesi più approfondita che presenta altre idee fondamentali del libro, si sofferma anche sugli aspetti più pratici e contiene un piano d'azione per metterne in pratica gli insegnamenti. Grazie per aver ascoltato questo episodio fino alla fine, spero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile. Ecco un po' di cosette che potresti fare per non perderti i prossimi episodi, aiutarmi a far conoscere il podcast ed anche aiutare altre persone che potrebbero trovarlo molto utile. Lascia un bel commento ed un voto se l'hai ascoltato su Apple Podcast o iTunes, clicca su Segui se l'hai ascoltato su Spotify o se sei su YouTube abbonati e lascia un commento o un like. Questo è molto importante per aiutarmi a proporre dei contenuti gratuiti e far conoscere a più persone quindi il podcast. E se ti interessano i grandi libri e le grandi idee di crescita personale puoi raggiungere la mia lista di contatti e ricevere subito delle risorse gratuite per migliorare te stesso e la tua vita. Per farlo ti basta andare sul mio blog all'indirizzo lucasadurni.com slash podcast. Il nome del mio sito contiene il mio cognome che è un po' difficile da scrivere quindi ecco come scrivere all'indirizzo web lucasadurni.com slash podcast. Grazie per l'attenzione, buona giornata o buona serata e soprattutto buona crescita.